Un saluto da Ivan di PacoDigit, oggi proviamo NGM Quasar, un telefono piuttosto innovativo per quanto riguarda i suoi contenuti. NGM si è consolidata negli ultimi anni come un produttore che ha investito molto nella realizzazione di dispositivi dual sim. Nell'ultima sessione di mercato ha introdotto due modelli che trovo piuttosto interessanti che sono questo Quasar e il Legend. Sono due apparecchi che ritengo abbastanza innovativi perché riescono a coniugare molto bene la presenza della doppia sim con il sistema operativo Android. Oggi abbiamo la possibilità di provare il Quasar che è la versione più economica delle due. Un telefono che dico subito presenta dei fortissimi chiaroscuri per quanto riguarda l'esperienza d'uso e adesso magari andiamo un pochino a affrontarli. Vediamo un attimo rapidamente le caratteristiche di base. La parte frontale prevede un display con diagonale da 3,75 pollici e risoluzione di 320 x 480 pixel. Il display è un display TFT. Facciamo due considerazioni. La diagonale dal mio punto di vista per quanto riguarda il mio gusto questa dimensione è quella minima che si dovrebbe avere per utilizzare correttamente un touchscreen di un dispositivo moderno. Sotto personalmente faccio un po' fatica ad utilizzarlo correttamente. Per quanto riguarda la risoluzione, è una risoluzione piuttosto bassa che ci può creare qualche imbarazzo nella navigazione internet. Magari lo vediamo dopo ma nulla di trascendentale. Ciò che mi è piaciuto meno di questo display è una fortissima dominante azzurra più o meno in tutto quello che si fa. magari poi se riesco ve lo faccio vedere addirittura anche nell'utilizzo della fotocamera sia proprio questo tipo di percezione. Nessun problema invece per quanto riguarda l'utilizzo del touchscreen che ha una rispondenza ottimale. Nella parte superiore abbiamo la capsula auricolare, sensori di luminosità e di prossimità, videocamera frontale e nella parte bassa quattro tasti a sfioramento. Tasto home, tasto di ricerca, tasto di ritorno e menu contestuale. Come vediamo il telefono dotato di quattro tasti, questo ci fa intuire che l'installazione di base di questo quasar non è la Android 4. Infatti abbiamo Gingerbread in versione 2.3.6 che funziona direi assolutamente bene, non ha nessun tipo di imbarazzo a lavorare. Il cuore del telefono è un processore single core da 800 MHz, 512 sono i MB di RAM e la memoria fisica, altra nota dolente, è di poco superiore ai 100 MB. La memoria può essere espansa con una scheda microSD ma ritengo che il quantitativo di base a disposizione dell'utente sia un po' troppo basso per installare quei due o tre software che tutti abbiamo, vuoi il client Facebook, vuoi Whatsapp. Ho notato proprio di recente che questo sta diventando un problema abbastanza importante per quanto riguarda la gestione della memoria. Quindi secondo me sarebbe bene inserire dei quantitativi di memoria un po' più ampi anche in telefoni diciamo così di fascia medio-medio-bassa. Vediamo anche le altre caratteristiche fisiche del telefono dopo aver visto la parte frontale. Parte sinistra con il tasto per il controllo del volume. Nella parte bassa abbiamo l'incavo per sbloccare il cover posteriore, presa microUSB, presa per la cuffia e tasto di accensione. Parte posteriore con questo cover lucido che è parecchio bello esteticamente ma ha una tendenza notevole a sporcarsi quindi restano le ditate in maniera molto evidente. Fotocamera, abbiamo qui anche il padiglione, l'altoparlante di sistema. Fotocamera da 5 megapixel con flash led. La fotocamera regala degli scatti decenti, la risoluzione dei video è in qualità VGA. Naturalmente sotto al cover troveremo anche la doppia sim e batteria e la scheda di memoria aggiuntiva. Andiamo un attimo a vedere la doppia sim. Adesso prima ho fatto qualche altra prova. La doppia sim utilizza un software dedicato quindi direi che l'implementazione è stata fatta piuttosto bene nel sistema operativo. Abbiamo sempre la presenza del tasto 1 e del tasto 2 che ci sta a indicare con quale delle due sim vogliamo eseguire le nostre telefonate. Sarà nostra cura dopo aver inserito le sim indicare al telefono quale sarà quella prioritaria anche per quanto riguarda la gestione della parte dati. Direi che tutto quanto funziona bene sia per quanto riguarda la messaggistica per quanto riguarda la parte telefonica. Senza dubbio questa aggiunta della doppia sim è stata fatta bene da NGM. È presente la ricerca intelligente dei contatti quindi direi che promuoverei a pieni voti la gestione delle due sim all'interno del telefono. Direi assolutamente nella media il funzionamento della parte telefonica in senso stretto quindi buono il dialogo con la rete e direi anche piuttosto positive le notizie che ci giungono dalla dalla capsula auricolare. Direi piuttosto buono il volume nella media anche la qualità della della fonia. Andiamo a vedere qualche altro dettaglio. La grafica è stata appena appena toccata da NGM. Non ci sono particolari aggiunte da parte del produttore. Tranne una che è questo NGM NAV. NGM NAV è un software di navigazione che possiamo liberamente scaricare dal dal sito di NGM. Ecco la cosa la cosa interessante di questo sistema di navigazione è che è un sistema offline quindi dobbiamo scaricare tutte le mappe di cui necessitiamo. Lo possiamo fare gratuitamente perché è un servizio offertoci da da NGM. Come come avete potuto sentire c'è l'assistente vocale incorporato. Questo è il lato in chiaro di questa situazione. Quello in scuro come dicevo prima perché questo telefono ha diversi chiari scuri è il funzionamento dell'antenna gps che dico senza nessun giro di parole mi ha lasciato letteralmente sconcertato. Nel senso che la sensibilità dell'antenna gps mi sembra veramente veramente scarsissima mi spingo a dire che in un primo momento avevo pensato che il telefono avesse un guasto per quanto riguarda il funzionamento della dell'antenna. Dubbio che non ho ancora completamente fugato perché avevo a disposizione soltanto questo esemplare. Il fix adesso naturalmente ci troviamo all'interno di un edificio all'interno dell'edificio è praticamente impossibile ma ho provato anche per un periodo di tempo piuttosto lungo quasi mezz'ora a utilizzarlo in macchina da fermo provando a mettere il telefono a cielo aperto e il telefono aggancia due o tre satelliti con un'intensità di segnale veramente molto molto scarsa cosa che addirittura nel mio caso ha pregiudicato la possibilità di utilizzare il navigatore in quel momento. Quindi io dico molto sinceramente mi riservo di verificare cosa che non ho ancora fatto se esiste una casistica di problema su questo modello o se il mio esemplare che è nato sfortunato però mi sembra giusto sottolineare questo tipo di problematica. È veramente un peccato in considerazione del fatto che comunque NGM ci mette a disposizione un software di navigazione completo. Probabilmente la parte di interfaccia non è a livello delle migliori che possiamo trovare in giro però considerando il fatto che è completamente gratuito sarebbe bene poterlo utilizzare in modo più approfondito. Andiamo a vedere un attimo il browser facciamo la nostra rapida prova di apertura della pagina. Il browser è il browser stock di Android come detto in versione gingerbread. Anche qui nulla da dire per quanto riguarda la capacità di caricare i contenuti della pagina internet. Ritengo invece piuttosto evidente invece ciò che dicevo prima nella riproduzione dei colori di questo display. Mi sembra veramente tutto molto slavato con pochi contrasti. Devo dire che stavo riflettendo sul fatto della dimensione effettiva di questo display un 3,75 a memoria forse è la prima volta che mi capita di avere a che fare con un display di questa dimensione. Non vorrei che fosse un pannello con qualche problema perché io che non sono esattamente un appassionato dei display AMOLED e super AMOLED, quelli super colorati eccetera eccetera devo dire che però in questo caso mi sembra che siamo un pochino troppo sotto la media della qualità della riproduzione dei colori. Bene, come si può vedere l'interfaccia ha il consueto sviluppo a cubo quindi possiamo variare le facce. Che cosa dire di questo NGM Quasar? Come dicevo all'inizio un telefono che mi è piaciuto subito di impatto nell'utilizzo. Forse esteticamente preferisco qualcosa di un pochino più squadrato, però questo è un fatto di mio gusto personale. Direi lo promuoviamo per quanto riguarda la dimensione del display, una diagonale giusta per incominciare a utilizzare bene un telefono Android. Ribadisco una fortissima perplessità per quanto riguarda sia la qualità dei colori del display che soprattutto per quanto riguarda il funzionamento della antenna GPS che mi ha lasciato veramente veramente diciamo confuso e perplesso nel suo funzionamento. L'NGM Quasar è un telefono che si può trovare sul mercato un po' sotto i 200 euro quindi a un prezzo d'acquisto piuttosto vantaggioso considerando le caratteristiche di base. Ringrazio la Stockhouse di Corso Sempino a Milano per averci messo a disposizione questo esemplare di prova. Un saluto da Ivan Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.